Deadpool e Wolverine, per chi ha visto la mia recensione sa benissimo che ho amato questo film, ovviamente come il 99% dei film, se non addirittura quasi il 100%, per quanto un film possa essere bello, ha dei difetti. E anche questo Deadpool e Wolverine ha dei difetti, quindi all'interno di questo video voglio andare a dire quello che secondo me non funziona all'interno di Deadpool e Wolverine. Allora, per me uno dei motivi più grandi per il quale dico che ha dei problemi è il fatto della TVA. Allora, la TVA all'interno di Deadpool e Wolverine è la causa scatenante tutta la trama del film, grazie alla TVA e grazie ovviamente a questo nuovo personaggio che amministra, questa sezione della TVA si muove tutta la trama del film, trama che per alcuni è inesistente, per altri è piuttosto flebile, per altri ancora è molto ma molto risicata. Per me è una trama molto semplice, ecco tutto qui, però è senza alcun dubbio, obiettivamente il tutto si muove grazie alla TVA, se no il film non sarebbe esistito, ok? Il mio problema non è che non spieghino cos'è la TVA, perché ormai l'MCU esiste da un sacco di anni, ormai sappiamo che se vogliamo capire tutto al 100%, tutto il puzzle che vi piaccia o meno, dovete vedere tutti i film e tutte le serie TV, ok? Quindi sicuramente per chi ha visto Loki stagione 1 e Loki stagione 2, per me capirà molto di più questo film. Serve vedere per forza Loki per capire questo? No, ma il mio problema non è questo, il mio problema è che all'interno di questo film sembra che, anzi senza il sembra, tutto quello che abbiamo visto soprattutto nella seconda stagione di Loki non sia mai accaduto. Noi nella seconda stagione vediamo alla fine che Loki riesce a ricucire il flusso temporale e quindi tutto ritorna nella normalità. La TVA non fa più quello che faceva nella prima stagione e invece qui vediamo praticamente che fanno quasi quello che facevano nella prima stagione. Come se nella seconda non fosse mai accaduto nulla. Tra l'altro nel film abbiamo il vuoto, no? Questo immondezzaio di personaggi e di roba, infatti vediamo tutti i personaggi della Fox, anche gli stessi Deadpool e Wolverine ci finiscono. Ecco, secondo la seconda stagione di Loki non dovrebbe esistere quel luogo, non più, né a Lyot, nulla di tutto ciò. Questo mi fa leggermente incazzare, però non è nuovo che tra film e persone che si occupano delle serie tv MCU non c'è connessione, non si parlano. Ed ecco che succedono queste cose. Nel film cercano di dire ma la TVA non è più quella di una volta. Cercano di farti vedere che questo nuovo direttore di questa sezione della TVA vuole agire sotto banco. In realtà i suoi superiori non sanno nulla, ok? Allora, però le cose non tornano. Non tornano anche la questione del multiverso. Tante cose non tornano. E questo secondo me è il problema. Il problema maggiore di Deadpool e Wolverine. Se vogliamo c'è anche, ci sono anche altri problemi. Come per esempio, secondo me, anche se a me non ha dato fastidio, i primi due Deadpool erano sì molto ironici come questo. Molto dark, c'era molto dark humor. C'era bagni di sangue a volontà, battute a sfondo sessuale. Ma c'era anche un'evoluzione sia di Deadpool sia dei personaggi intorno. C'era una bella storia, ok? Quindi c'erano battute divertenti e poi c'era una pausa tra queste gag. E poi si ritornava a fare, diciamo, delle gag, delle situazioni improbabili, dei combattimenti. Ebbene, invece, secondo me, in questo film l'equilibrio viene meno. Ci sono molte più gag rispetto a dei momenti, effettivamente, di ripresa d'aria, ok? Di momenti di calma, di momenti dove i personaggi si parlano, dove i personaggi hanno un'evoluzione. Un paio di volte ce l'abbiamo, soprattutto per quanto riguarda Wolverine, che ha un approfondimento non elevato, per l'amor di Dio. Però un minimo di approfondimento ce l'ha, ci dicono diverse cose e ok. Però secondo me il film è sbilanciato troppo sulle gag. Infatti io ho riso praticamente dall'inizio alla fine. Quindi a me questa cosa, che non ci sia, secondo me, il bilanciamento tra gag e, insomma, la parte un po' più seriosa, un po' più matura, dove i personaggi si parlano, dove i personaggi si evolvono, dove hanno una storia, viene meno questo equilibrio. Anche se a me non ha dato piuttosto fastidio, ma secondo me è un problema del film. Come un problema del film, per ultima cosa, secondo me, il villain Cassandra, ovvero la sorellastra di Xavier, che è in sé un personaggio interessante, potrebbe essere. Però non è per nulla approfondita. Non si capisce il perché lei faccia quello che fa, non si capisce. E è cattiva perché è cattiva essenzialmente. Sicuramente anche a me qui questa cosa non ha dato particolarmente fastidio perché ho avuto molte più cose positive rispetto a quelle negative. Io volevo un viaggio di amicizia, di cazzeggio tra Deadpool e Wolverine, volevo battute divertenti, volevo del sangue, volevo dei combattimenti divertenti. Ci sono stati i combattimenti coreografati bene, molto spesso sono fluidi, si capisce quello che sta succedendo. Quindi per me i pregi superano i difetti. Però secondo me questi erano i punti che avrebbero potuto limare e sarebbe stato quasi un film, a mio modo di vedere, per quello che è perfetto. Quindi voi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e noi come sempre ci vediamo la prossima.